Sono due musicisti di fama mondiale, Mattia Schirosa, fanese di nascita, e la sua compagna Sandra Sanjao, catalana. Con il loro progetto musicale girano tutto il mondo. La musica balcanica e la loro espressione artistica, una musica che trova le sue radici nel Mediterraneo, una musica di popoli e di genti, di diverse radici, travolgente ma anche sofisticata ed emozionale. Per la prima volta si esibiscono assieme nella città natale di Mattia, alla Galleria del Monte. Mattia, allora, con questo progetto è la prima volta che ti esibisci, vi esibite qui a Fano, la tua città natale. Sì, 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 il nostro progetto Ubuntu è un progetto nuovo, è un anno e mezzo che giriamo soprattutto in Catalogna. Abbiamo creato questo progetto anche per recuperare una dimensione più intima e acustica, tornare a suonare in acustico dopo tanti scenari grandi in giro per il mondo, e ci piace poterlo presentare in luoghi familiari, quindi perfetto una galleria così bella come la Galleria del Mondo, proprio sotto casa dove sono nato, qui al Palazzo Baccardi a Fano. È una musica molto di pancia, molto empatica. Perché ti affascina questa espressione musicale? Io sempre sono stata attratta per la musica tradizionale in generale, perché c'è questa essenza di espressione così naturale, no, della gente, del paese. E questa musica balcanica è una musica molto vicina e molto viva ancora oggi. È una musica anche che coinvolge, che crea molto coinvolgimento, scatena molte emozioni. Sì, è una musica che ti prende proprio dalle viscere. Due date, due giornate, due serate qui a Fano. Domani organizziamo il concerto qua alla Galleria del Monte, il sabato 5 gennaio, però abbiamo visto che un sacco di amici, gente voleva partecipare, quindi abbiamo deciso di ripetere anche l'11, il venerdì 11 gennaio, e speriamo che la gente si possa dividere tra i due giorni per poter mantenere l'essenza di questo concerto e performance, che è un concerto acustico, intimo e dove, insomma, si richiede al pubblico un ascolto attento e silenzioso. Che repertorio? Siamo partiti con la nostra passione, che ci ha unito nel nostro incontro, che quindi è musica balcanica, musica dell'ex Yugoslavia, c'è tanto repertorio della Macedonia, della Serbia, la Grecia, che ci tocca nel cuore. Facciamo una canzone arabe del Libano, una canzone ebrea, e poi stiamo aprendo anche le nostre radici.